E robicazzo sto telefono con sta memoria piena Vabbè ragazzi questo è il road trip La skin segreta del pass 5 Io direi che è un po' meglio dello spaccatutto Devo dire la verità lo è Molto meglio Però anche spaccatutto era una bella skin Ai suoi tempi Però questo è molto meglio Mi sembra più dark Tipo secondo me già sta skin Il mantello di Ragnarok li potrebbe stare benissimo Cioè io oggi ragazzi la sbloccheremo in live insieme Su fortnite la sblocchiamo in live Questa è il road trip La sbloccheremo segreta Cosa ne pensate scrivetelo nei commenti Lasciate un bel like Ora porto il video anche della settimana Settimana 5 Settimana 7 Che cazzo dico manco io Questa è il road trip ragazzi lasciate un bel like Se vi piace E vabbè ragazzi Per adesso i server di fortnite sono Mentre sono in fuori servizio Io l'ho aggiornata L'applicazione Andando è aggiornata Poi quando mettono le sfide Facciamo la live Anche dopo la facciamo lo stesso Gioco con salva mondo Vabbè ragazzi Lasciate un bel like Iscrivetevi al canale Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi